iniziamo il video in modo atipico non so se la voglio dire questa cosa ma io non credo che si potrà dire una cosa del genere comunque ragazzi buongiorno a tutti benvenuti nei vicoli di Pisa dove ci stiamo lecando? mangiare perché comincia a essere l'uno e un quarto vi farei anche abbastanza fame qui abbiamo ragazzi allora intanto andiamo a mangiare e poi andremo a fare un giro all'interno cioè non è la splendida non ti vergogni che passiamo anche la centri mentre vi legge il menù comunque dicevo oggi così il sabo oggi sgancia ragazzi oggi tocca ci tocca ragazzi ma dopo andremo all'Ikea a comprare le attrezze per casa per il nuovo arrivo quindi la nuova arrivata in casa la nuova arrivata che arriverà dai qualcuno arriva là no? si ma non lo so ma come lo sai? infatti è caldissimo no caldissimo cioè se sta bene c'è un po' di vento ragazzi ma ci mancava qui guarda la vacca ma ci stiamo la pietra staventando la taverna si si è tipo la taverna siamo da pranzo non si senti da niente siamo da pranzo io vi faccio vedere solo le immagini poi vi metterò un audio in description guarda 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 che bello niente vieni qui lo freghiamo il bicchiere non sento io lo freghiamo il bicchiere scusa? lo freghiamo il bicchiere va bene va bene ah quello si quello lo portiamo via lo freghiamo dopo lo compriamo comunque comunque ci piaceva l'idea questa c'è una furchetta ponte fritte di sanure e gamberi e gamberi sul letto di zucca e c'è e e e e e e e e spaccaremo con una spagna guarda bello guarda bello guarda zanna 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 buona sono belli caldine ma il video qui a me è bello dei guadri insomma dillo dico lo che vuoi dire dalla cattura in mezzo sui figli perché? no dai non posso non posso no eh perché? inserata e mozzarella io ora faccio la ripresa poi ci si parla solo si si parla si si parla ti sento diverti ti faccio per me faccio solamente un cenno se è tutto a posto faccio solo un cenno è sordo oggi ragazzi mi spero noi siamo andati a mangiare non abbiamo detto niente del cibo così ma faremo le consigliazioni alla fine hai capito? faremo le consigliazioni alla fine non abbiamo detto niente perché c'era uno appiccicato lì uno appiccicato da qui d'altro ragazzi siamo arrivati a a a a a i ke a entrata ora che striscerà il sabo? sai che strisci? pai strisci a po payment come si fa a pagare? bene il segreto era quello di pagare ragazzi andiamo a vedere cosa si compra usci dalle scale senza guardare no no muori ho guardato quel costrutto nero non c'è mai stato andiamo a vedere una nuova stanza che faremo a casa è insonorizzata che ridere bello così però in casa così ragazzi una donna al parco giochi qui bello qui volete fare le vostre donne? portatela all'IKEA saranno molto felici di comprare con la carta vostra soprattutto se pagano quegli altri ecco la carta vostra infatti ha detto cioè così mi voglio in i negozi e si mangia subito qui sempre a mangiare la cassa no perché te non me lo faccio a prendere perché cazzo è il dolce non mi piaceva quindi ti dobbiamo l'IKEA prendiamo qualcosa qui di strano svedese finlandese sloveno unghese norvegese qualcosa di strano pescele la soia la soia la soia la soia dolce noi si voleva questo allora vendiamo uno di questi vai questa era se vuoi quella sì un'acqua sì bevande un bicchiere di vino no grazie c'è l'acqua qui no ok un'acqua quanti mila euro cento mila vuoi che caffetteria che cosa no amore esprimo ciao volen abbiamo preso una cheesecake mertilli svedesi ma cos'è Peter Paul è un caramello non lo so caramello è qualcosa non so un dolce di caramello si presenta bene sconvogliosissimo sono tutti sconvogliosi proviamo vediamo cosa è Peter Paul che è le mie cose che ho nella testa quindi se vai veloce a sentire com'è io faccio questo cosa fai per questo lei guarda sconvogliosi si sa ragazzi cioccolato caramello caramello e caramello caramello e noccioline buono penso che si buonissimo ora sento questo cheesecake questa è ciao cheesecake mertilli e fai giocci cheesecake e mertilli dai svedesi però quanto è buono mertilli sono svedesi ma si direttamente svedesi c'è la scuola direttamente da là da dai da un po' spriga però è buono mertilli sono un po' sconvogliano questa sconvogliano quella è più buona ma se già la mia buona poi vado vado con dei madonna io che ci metto il viso tutte le volte ma è mertilli al spino è al primo vero è una barretta morbida è vero che sembra ma che è quella farine quella farine tipo sgaretolini sotto perché ci sono biscotti bagnati ma saranno lesce tipo lesce ebbene grazie questo video si è giunto al termine quindi non lo debbi di essere iscrivervi al canale commentate mettete like e seguite ci sarebbe nei prossimi video a presto ragazzi ciao